Un sistema di chiamata senza fili wireless che scopriamo in fiera qui nello stand Alec è un sistema che può veramente aiutare chi gestisce strutture come case di riposo, ospedali e cliniche. Il sistema Alec 01 è un sistema professionale di chiamata senza fili che è prodotto non solo da Alec SRL ma anche da CS Elettronica. Il sistema è costituito da una serie di pulsantiere di chiamata che quando attivate possono trasmettere il segnale ad uno o più ricevitori di diverse tipologie, fissi o portatili. Qualche esempio? Display da polso, da parete, il software di gestione. Questi ricevitori potranno mostrare informazioni di tipo alfanumerico. Come il numero della stanza, il nome del reparto oppure solo il numero della stanza o solo il numero di reparto. È un sistema che non prevede opere murarie, collegamenti elettrici, è solo comodo e funzionale.